Miziade e la battaglia di Maratona, una vittoria che ha salvato la Grecia. Miziade il giovane, figlio di Cimone, era un generale e politico ateniese vissuto nel VI secolo anno corrente. Il suo nome è indissolubilmente legato alla battaglia di Maratona, combattuta nel 490 anno corrente contro l'esercito persiano di Dario I. La vittoria in questa battaglia segnò una svolta fondamentale nelle guerre persiane e garantì la sopravvivenza della Grecia indipendente. Le origini e la carriera di Miziade Miziade nacque in una famiglia aristocratica ateniese. Dopo aver trascorso parte della sua giovinezza in Tracia, dove ricoprì il ruolo di tiranno del chersoneso tracico, tornò ad Atene in un momento di grande tensione politica. La città era infatti minacciata dall'invasione persiana, che mirava a conquistare l'intera Grecia. La battaglia di Maratona Nel 490 anno corrente, l'esercito persiano sbarcò nella piana di Maratona, a circa 40 chilometri da Atene. I greci, guidati da Miziade, si schierarono contro di loro in una battaglia campale. Lo stratego ateniese adottò una tattica innovativa, ordinò ai suoi opliti di avanzare in formazione serrata contro il centro dello schieramento persiano, creando un punto di rottura. La manovra ebbe successo, i persiani, colti di sorpresa e indeboliti, furono costretti a ritirarsi verso le navi. L'importanza della vittoria La vittoria di Maratona fu un evento di enorme importanza per la Grecia. Non solo impedì ai persiani di conquistare Atene e il resto della Grecia, ma dimostrò anche che i greci erano in grado di sconfiggere l'esercito persiano, considerato fino ad allora invincibile. La vittoria diede inoltre grande prestigio ad Atene e contribuì al suo sviluppo come potenza militare e politica, le conseguenze della battaglia. Miziade fu celebrato come un eroe ad Atene. Tuttavia, la sua fama non durò a lungo. Nel 489 anno corrente, fu accusato di tradimento e condannato a una pesante multa. Morì in prigione poco dopo. L'eredità di Miziade Nonostante la sua tragica fine, Miziade rimane una figura di grande importanza nella storia della Grecia. La sua vittoria a Maratona è considerata uno dei momenti più significativi della storia occidentale, in quanto ha contribuito a preservare la democrazia e la cultura greca. Oltre la battaglia Oltre al suo ruolo nella battaglia di Maratona, Miziade è ricordato anche per altre sue imprese. Fu un abile politico e diplomatico, e contribuì all'espansione dell'influenza ateniese nel mare Egeo. Inoltre, si distinse come uomo di cultura e promosse lo sviluppo delle arti e delle lettere ad Atene. Conclusione Miziade fu un uomo complesso e controverso, ma il suo ruolo nella battaglia di Maratona lo ha reso immortale nella storia. La sua vittoria ha avuto un impatto enorme sul corso della storia occidentale, e la sua eredità continua ad ispirare le persone ancora oggi.